la collaborazione con il comune di Cesaro Baderna, che credo assoluto ripraziare il sindaco di Gipoti che ha dato la sua opportunità e la collaborazione della situazione fungale all'organizzazione di questa serata che vuole essere una serata che faccia giunto la situazione e che ha qualche flash, qualche indicazione, qualche prospettiva riguardo all'Expo 2015 di cui spesso sentiamo parlare ma che poi nel concreto le imprese, i piccoli pentitori fanno fatica a focalizzare quale sarà la ricaduta per loro.